Musica Adesso vi facciamo vedere come studiamo in modo semplice il Teorima di Pitagora Allora, l'area di A si trova facendo B B più C Invece per trovare B si deve fare A meno C Invece per trovare C dobbiamo fare A meno C Per trovare B dobbiamo fare 1 Per trovare C Andiamo a fare cateto 2 Allora A si trova facendo B più C Ovvero cateto 1 più cateto 2 Allora A si trova facendo B più C Cioè cateto 1 alla seconda più cateto 2 alla seconda Siccome abbiamo trovato i due cateti manca l'ipotenusa L'ipotenusa si trova facendo A sotto la 10 Ok, cateto 1 alla seconda più cateto 2 alla seconda sotto la 10 Grazie per aver visto questo video Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your